Bentornati, siamo di nuovo qui insieme a parlare di questa emergenza educativa, quindi dobbiamo anche tenere fuori delle cose concrete, proposte per tutti quanti, per noi genitori, che cosa possiamo realmente fare per fare fronte a questi pericoli, quali sono strumenti che possiamo usare, utilizzare per difendere i nostri figli da tutto ciò che li porta verso basso, verso un qualcosa che porta in sé un veleno, un veleno che potrebbe entrare nello spirito, nella loro vita e poi le conseguenze potrebbero essere veramente disastrose, che oggi veramente vediamo tanti giovani che hanno questo disagio anche a livello di identità, di capire e anche fare fronte a tutti i pericoli, a quello che magari il Signore ha chiamato, perché tutti quanti abbiamo un disegno, un progetto da realizzare, quindi abbiamo parlato dell'agenda nella prima parte, adesso vorrei tornare anche a questo pericolo, perché questo pericolo è veramente reale, quindi dobbiamo anche, per chi magari ancora non è convinto, anche spiegare quali sono veramente pericoli e quali sono strumenti per contrapollo a questo pericolo, cosa possiamo veramente fare noi genitori? Sì, allora la prima cosa è capire, abbiamo detto quali sono i pericoli, prima l'analisi dei pericoli e poi capire cosa possiamo fare, i pericoli abbiamo visto che sono tanti, oggi un altro pericolo che hanno di fronte ai nostri figli è il rapporto con i nuovi media, smartphone, tablet, quindi la prima cosa è che possiamo, perché cosa succede? Con i smartphone senza un controllo e dati prematuramente creano degli sfaceri, perché lì dentro si annirano problemi come il cyberbullismo, possono succedere appunto tante problematiche che loro non sanno gestire, perché non hanno l'autonomia per gestire questi nuovi media che hanno sulle mani, quindi anche lì, ad esempio, pensavo a Bill Gates, se noi immaginiamo, Bill Gates, quello che viene da Windows, ha dato ai suoi figli lo smartphone a 14 anni, per far capire quindi ecco, lì dove viene dato, quindi darglielo a una certa età, e dopo a quell'età, in poi una volta gli lo diamo, diamo le regole anche lì precise, quindi dice papà e mamma ti danno questo smartphone, questo cellulare, però tu mi devi dare la facoltà di controllare dove vai, come lo utilizzi, in accordo e in piena comunicazione con i propri figli. Sul pericolo invece del gender nella scuola, anche lì bisogna capire, innanzitutto, e conosco in noi il problema, perché prima bisogna capire cos'è sto gender, cercando di senterizzare al massimo, il gender non è altro che un'ideologia che si è creato nel tempo e che sta prendendo sempre più piede, diciamo, nella società e in maniera episodica nella scuola italiana, episodica non sistematica, grazie a Dio ancora, questa religione ci dice che noi siamo maschio o femmine, indipendentemente che non siamo maschio o femmine per il nostro sesso biologico, ma siamo maschio o femmine per quello che noi sentiamo di essere. Ed è successo appunto in alcune scuole d'Italia, tipo a Brescia, che in alcuni episodi, non parliamo di cose sistematiche, che sono successi in alcuni episodi, in questa scuola elementare, primaria di Brescia, in una lezione è stata detta da alcune persone che erano lì a fare un percorso, un laboratorio, che noi possiamo essere maschi, femmine o gay. Cioè, gli è stata data comunque una comunicazione sbagliata, senza avvisare i genitori, una comunicazione sbagliata, cioè gli è stato inculcato al ragazzo infante che si può essere non maschio e femmine, ma maschio e femmine e gay, che è una sortura innaturale della trasmissione educativa, istruttiva ed educativa del figlio. Oppure esempio, e questo parliamo della fase dell'infanzia, ma anche nella fase, diciamo, 14-15 anni, in un liceo di Roma, un altro episodio che è successo, a 14 anni, senza il consenso dei genitori, è stato letto un libro in un laboratorio con questi ragazzi di 14 anni, senza avvisare i genitori, un libro di una scrittrice, Sei come sei si chiama il titolo di questo libro, Michela Marzano, l'autrice, in cui si descrive, se l'ho letto, si descrive l'atto omosessuale compiuto in quel libro, è scritto crudemente e brutalmente in quel libro, senza il consenso dei genitori. Quindi, a nostra attenzione, innanzitutto, parlare con i nostri figli, nelle varie fasi evolutive, fargli capire queste ideologie che ci sono, ma nei riguardi della scuola, essere vigilanti. Il nostro primo dovere è essere vigilanti. Noi prima abbiamo visto nell'immagine del Family Day, non dobbiamo pensare che essere genitori può essere limitato a andare in piazza una volta. Essere genitori vuol dire firmare una petizione online. Essere genitori vuol dire vigilare giorno per giorno su quello che succede a scuola ai nostri figli, perché questi episodi che sono successi a Brescia, a Roma, potrebbero succedere, non semestematicamente, ma potrebbero succedere anche nelle nostre realtà territoriali. Quindi la prima cosa è vigilare, quindi chiedere ogni giorno ai nostri figli, papà, mamma, raccontami cosa sei fatto a scuola, capire cosa sto dicendo, è lì dove c'è qualcosa di strano che loro ci raccontano, interloquire con l'istituzione scolastica. A livello propedeutico, dobbiamo sapere che la scuola italiana pubblica ha degli strumenti che noi dobbiamo conoscere e leggere. Questo strumento, il primo strumento che dobbiamo conoscere ogni scuola, c'è il PTOF, che sarebbe il piano triennale dell'offerta formativa, in cui sono sviscerati tutti i progetti che la scuola propone ai nostri figli. E quindi ci sono dei progetti particolari che noi non condividiamo, siamo dovuti a vederli, a confrontarci con la dirigente scolastica, con il corpo docente, eventualmente se sono progetti che verranno svolti nella fase extracurricolare, che sarebbe la fase non obbligatoria, molto spesso pomeridiana, non dobbiamo dare il consenso alla partecipazione dei nostri figli a quei progetti. Un'altra cosa importante è leggere il patto di corresponsabilità educativa che viene firmato da ogni genitore quando iscrive il proprio figlio alla scuola pubblica italiana e in quel patto di corresponsabilità educativa ci sono scritti doveri e diritti della scuola e della famiglia. Quindi bisogna con l'attenzione leggere e sottoscrivere quel documento. Quindi non possiamo pensare che essere genitori vuol dire protestare. La fase della protesta è importante, ma essere genitori vuol dire essere ogni giorno vigilanti, ogni giorno formarci, ogni giorno testimoniare, ogni giorno vigilare e interloquire e proteggere i nostri figli, dandogli a loro gli strumenti per stare nelle varie fasi evolutive, nella scuola, nella società. Perché la problematica poi non è solo la scuola, noi possiamo evitare che il nostro figlio partecipi a un progetto educativo, ma l'ideologia gender nel mondo è imperante. Eh infatti. Cioè noi viviamo, possiamo anche evitare che venga trasmessa nelle fasi dell'infanzia, nella prima infanzia, l'ideologia gender nella scuola, ma se noi prendiamo un giornale, una pubblicità, i nostri figli quando torneranno a casa leggono il giornale, e non è che va anche fuori dall'ambiente scolastico, e loro vivranno, vivono e vivranno in una società, una gender society, gender fluid. Quindi non possiamo bloccare la società che va verso quel nulla che dicevamo prima, però possiamo dare gli strumenti ai nostri figli con la testimonianza e dando gli strumenti per combattere insieme a noi questa battaglia. Non possiamo toglierli dalla società, dobbiamo insegnare, e l'opera educativa è questa, a stare dentro la società con i valori che noi viviamo e che noi li trasmettiamo. Io mi ricordo che oltre nella scuola, che può essere anche un terreno pericolo per questa ideologia, ma c'è anche, come hai detto giustamente, questo fenomeno è diffuso in tutte le fasce anche della nostra percezione, come i film, il cinema, ci sono stati dei film dove in maniera proprio evidente questi lobby hanno avuto in qualche modo trasmettere questa ideologia anche ai bambini, ai giovani, come pure nei libri. Io pure anche in biblioteca ho trovato una volta un libro sulle famiglie, dei animali, poi arriva a un certo punto la famiglia, arcobaleno, in cui ci sono due mamme, due papà, allora sono cose che sembrano invisibili, che sembrano che non ci tocca, non stiamo ancora in confronto, in realtà stiamo già in passo veramente più avanzato di quanto ci possiamo rendere conto. Sì, questo vivere in una società gender fluid porterà a livello esponenziale che ci sanno molti più casi di disforia di genere. Quello che dici tu prima, ad esempio qualche giorno fa in televisione, l'ora i due, si parlava di questa male, di questa disforia di genere, dicendo, confondendolo con siamo libri di fare quello che vogliamo. Cos'è la disforia di genere? Che prima era proprio una malattia psicologica. Cioè noi nasciamo maschi e femmine, dato di natura, però facciamo un percorso nella nostra crescita, dall'infanzia, ma poi continuano le scienze e non finisce mai, in cui noi identifichiamo, facciamo un percorso di identificazione dal nostro senso biologico al nostro sentirci uomini e donne, corrispondenti al nostro sesso biologico. Allora, quando succedeva che già l'infante o anche più lì, più avanti nell'età, c'è questa discrasia che il ragazzo o la ragazza non si sentivano, non sentivano all'interno, non si sentivano corrispondenti al proprio dato biologico al sesso biologico, lì devono essere aiutati e dove poteva intervenire, ad esempio, un ausilio psicologico e capire la causa. Oggi invece quello non viene visto più come un problema a disforia di genere, viene visto come una scelta. Quindi questi casi di disforia di genere verranno sottovalutati e passati come la norma. Quindi l'attenzione dei genitori e quindi affrontarli, se i figli avranno queste, per colpa della scuola, può essere, ma soprattutto la società, queste disforie di genere, capire e affrontarla insieme a loro, con gli ausili tecnici anche, anche con i psicologi cristiani che possono aiutare a capire che cosa c'è, perché si è creata questa disforia di genere e questa mancata identificazione fra il dato biologico e il dato psicologico del sentire di essere maschio o femmina. e quindi sarà un autore di battaglia sempre legato alla vigilanza e sempre legato anche alla comunicazione franca con i figli, perché non dobbiamo avere paura di questo che è succedendo. Tutto si affronta in Gesù Cristo e tutto si affronta nella comunicazione con i figli. Comunicando i figli, senza additarli o spaventarci del problema che viviamo, ma accompagnarci con tranquillità, con la ragione che il Signore ci ha dato e con gli ausili tecnici che il Signore ci dà. La psicologia, una certa psicologia imposata cristianamente ci può aiutare a vivere e a risolvere alcuni tipi di problemi che viviamo e possiamo vivere. Bene, io ti ringrazio per poterci aiutare anche a dare luce. Qui siamo in programma che il titolo è luce del mondo. Quindi noi dobbiamo dare luce, è quello che hai fatto appena adesso con noi, con tutti quanti, dare luce a qualcosa che dobbiamo essere coscienti, perché dobbiamo in questa realtà che siamo buia di questi mutamenti, di queste ideologie che cambiano, cambiano nome, ma in realtà la base è sempre quella, perché i pericoli che ci vengono proposti contro l'essere umano, contro la famiglia, contro i bambini, contro i valori cristiani, contro Dio, sono sempre lo stesso. La base sempre arriva da questo mutamento anche di queste ideologie che hanno inizio anche nel comunismo, anche prima nella rivoluzione francese e quindi tutto questo fronte contro il Dio, contro la Chiesa, contro l'essere umano, contro la famiglia. Quindi io ti dico, chiedo anche le ultime due parole per chiudere questa puntata e ti ringrazio perché così possiamo essere anche più coscienti, più vigili. Io ringrazio te per avermi dato la possibilità di affrontare questo tema così importante che abbiamo cercato di svisciare in poco tempo. Sì, quello che dicevamo, l'abbiamo detto prima, quello che succede oggi nasce dalla volontà dell'uomo di distruggere Dio. È chiaro, ma distruggere Dio vuol dire distruggere un umano. E questa è la moneta, l'altra faccia della moneta che questi uomini che si sentono ispirati non riescono a capire. L'ultimo messaggio che vorrei lanciare è che per vincere questa battaglia educativa che dobbiamo combattere è una battaglia che si vince insieme. È importante unire i genitori. Io parlo anche con un anno fa abbiamo creato la associazione genitori di Civitano Amarche che nasce nella grande famiglia della associazione genitori nazionale italiana che appunto 50 anni fa dei genitori ispirati dietro all'etica cattolica hanno pensato di unirsi per combattere la battaglia educativa. Questo è fondamentale perché quello che dicevo io oggi per essere vigilanti, per avere gli strumenti, le chiave interpretative bisogna stare insieme, aiutarsi, approfondire insieme le problematiche, creare l'occasione di confronto e di incontro su tematiche specifiche. Senza essere insieme come i genitori diventa tutto più difficile. Quello che dicevo prima, quando tu sei da solo contro tu vuoi educare i tuoi figli al senso del sacrificio e di guadagnarsi il voto, un fatto è combattere da solo, un fatto è combattere dieci contro un sistema, un fatto è combattere cento contro un sistema. E noi siamo tanti, siamo tanti uniti intorno Gesù e la Madonna che ci protegga e confidiamo tutto a lei, a Gesù, alla Madonna che qui siamo a Santa Casa, che ci protegga da ogni male e ogni pericolo per noi e per i nostri figli. Ti ringrazio e sia lodato Gesù Cristo. Sempre salutato.